A tutte e a tutti e benvenuti alla presentazione del portale nazionale del reclutamento in PA e del nuovo servizio Linea Mica Digitale. Do subito la parola al Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta. Due parole solo, due, su invece una vecchia conoscenza Linea Mica. Linea Mica è stata una grande intuizione di 12-13 anni fa che operò straordinariamente bene dopo il terremoto dell'Aquila fornendo un hub di collegamento per quelle popolazioni ed è stato il supporto per tutto il Paese per quanto riguarda le informazioni su quelle riforme di allora, sulla pubblica amministrazione, customer satisfaction ed altro. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto rivivere Linea Mica che si era un po' addormentata, l'abbiamo fatta rivivere sulle tematiche di oggi, vale a dire PNRR nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cioè Linea Mica ha messo in piedi un sistema di comunicazione, illustrazione, formazione verso tutte le pubbliche amministrazioni per capire bene la complessità del PNRR e le potenzialità del PNRR nei confronti delle singole amministrazioni e dei singoli amministratori. E l'altra componente, sempre quella di customer satisfaction, vale a dire rispondere alle esigenze che si manifestano all'interno del Paese rispetto alla soddisfazione dei servizi forniti ai cittadini, ai nostri clienti. Queste sono le prime due missioni che poi si allargeranno nel tempo e sarà il più grande sensore ascoltatore degli umori nel Paese, con tutti i sistemi più avanzati anche di intelligenza artificiale, con i quali noi ascolteremo il Paese e sulla base degli ascolti daremo tutte le informazioni del caso per poi anche passare alle formazioni del caso, nel senso che come avete visto forse ieri, lo illustreremo entro metà dicembre, sta partendo una grande strategia formativa rispetto al pubblico impiego ai 3 milioni e 200 mila dipendenti pubblici e anche su questo Formez, Linea Amica e Impia daranno il loro contributo. E apriamo, dopo aver illustrato Impia, il capitolo Linea Amica Digitale. Lo apriamo con il presidente del Formez, Alberto Bonisoli, che saluto e ringrazio, le do la parola. Grazie mille, grazie Ministro per l'invito, buongiorno a tutti. Oggi quello che vedrete è l'Inmica Digitale, così lo chiamiamo al Formez, ed è il risultato di un esercizio di design dei servizi. Noi abbiamo preso quella che era, come giustamente ha ricordato il Ministro, un'intuizione che è stata realizzata alcuni anni fa e che ha avuto un indiscutibile ritorno. Mi veniva da chiamarlo successo di mercato, ma qua non c'è un mercato. Qua c'è una soddisfazione e un'efficacia nel relazionare quello che è il cittadino in generale con la, o meglio, le pubbliche amministrazioni. Bene, il mondo è cambiato negli ultimi 10-15 anni. Abbiamo nuove tecnologie, abbiamo nuovi modi di pensare, abbiamo nuovi cittadini, perché nel frattempo le generazioni si sono succedute. Ecco perché c'è stato questo esercizio di riprogettazione che ha avuto però due capisaldi. Innanzitutto ci siamo chiesti chi fossero gli interlocutori. I cittadini sono i principali interlocutori e di fatti questo elemento di misurazione di come i cittadini si sentiranno a loro agio nel relazionarsi con le pubbliche amministrazioni. È uno degli architravi del progetto di linea mica digitale, ma non solo. Per il PNRR abbiamo toccato con mano il fatto che ci sono tutta una serie di pubbliche amministrazioni, mi riferisco in particolare agli enti locali, mi riferisco in particolare a quelli di minori dimensioni, che hanno bisogno di informazioni e hanno bisogno di rassicurazioni. E quindi il nostro intento è quello di mettere in atto, mettere in piedi una macchina digitale, come tra poco i miei colleghi vi spiegheranno nel dettaglio, che sia in grado di rispondere a queste esigenze. Per farlo la sfida era non da poco perché abbiamo coniugato due elementi che apparentemente possono essere addirittura quasi contraddittori. Allora, il primo è il rigore. Noi daremo informazioni e li daremo da pubblica amministrazione. Quindi il linguaggio non deve essere burocratese, se no ci parliamo addosso, ma non può essere nemmeno superficiale e non può essere ambiguo. Noi dobbiamo togliere l'ansia e non aggiungere dell'ansia a qualcuno che magari ce l'ha già. E quindi un'attenzione particolare ad avere delle risposte che fossero ad esempio e che saranno validate dalle pubbliche amministrazioni di riferimento è una delle condizioni non negoziabili di questo progetto. L'altro aspetto è l'empatia. Noi vogliamo che i cittadini si sentano a casa, che trovino un clima familiare, avendo in mente che quando parliamo di cittadini noi abbiamo dei gruppi di cittadini che hanno ad esempio una diversa familiarità con le tecnologie. Abbiamo le persone che magari sono già un po' avanti con gli anni che il computer l'hanno scoperto già in età adulta e abbiamo invece dei cittadini che col computer e con le nuove tecnologie ci sono nati, anzi hanno di fatto la propria forma mentis adattata a queste possibilità. Bene, abbiamo entrambi e tutte le varie sfaccettature di questi due elementi all'interno del nostro target di riferimento, questa è la sfida che siamo pronti a cogliere come Formez. Grazie. Grazie Presidente. Isabella Sala, responsabile comunicazione di Linea Amica, do la parola a te. Grazie, mi alzo così mi vedete. Come diceva il Presidente, Linea Amica Digitale propone un diverso sistema di risposte, risposte più classiche e risposte più tecnologicamente avanzate. Per questo noi abbiamo prodotto e oggi ve lo presentiamo una clip emozionale per la quale voglio ringraziare un gruppo di giovani talenti che si sono spesi in questo lavoro e che ci hanno creduto dal giovane regista John Giordano che l'ha seguito fin dall'inizio, al produttore Davide Bastolla, al Coni che ci ha dato lo spazio, all'atleta che ha vinto le scorse Olimpiadi, la ricorderete, Monica Contraffatto che è la nostra protagonista e alla Federazione Sport Paralimpici ci hanno supportato. Una clip emozionale perché noi vogliamo parlare di PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza con le amministrazioni, ma vogliamo anche parlare al grande pubblico perché la comunicazione, l'ascolto e la risposta è alla base di tutto ed è fatta anche di domande implicite. Vediamo la clip. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per questa testimonianza, vero Ministro? Giungere solo una cosa, qui si è parlato di progetti, ecco questi non sono progetti, questi già funzionano, sta già funzionando tutto, dal mese di agosto sta già funzionando tutto, se non avessimo questa solita burocrazia che ci rallenta saremmo ancora più avanti, nel senso che saremmo già nelle assunzioni dei mille, avremo già assunto i mille, avremo già avviato. Questa è l'ultima coda di questa burocrazia di rallentamento. Pensiamo che entro quest'anno, quest'anno si risolva, si risolvano anche questi passaggi i casi della vita. Detto questo, apriamo le domande dei signori giornalisti. Sì, forse voleva aggiungere qualcosa al Sergio Talamo, direttore della comunicazione Formas. Scusa, scusate. Molto rapido nel descrivere questo servizio, dopo siamo naturalmente sia io sia Isabella e il presidente del Formas a disposizione per ogni dubbio. Linea Mica, quando nacque, intuizione dell'allora ministro Brunetta, aveva come obiettivo di elevare lo standard di servizio della risposta al pubblico, questo era l'obiettivo, arrivare ad un livello di soddisfazione alto e in effetti realizzammo una customer satisfaction altissima, 40 milioni di contatti, un network nei 1300 amministrazioni. Abbiamo ripreso questo concetto, ma l'abbiamo focalizzato in questa prima fase su due aspetti, la gestione, l'assistenza alla gestione del PNRR e la customer satisfaction dei cittadini rispetto ai nuovi servizi pubblici. Perché il PNRR, lo dice anche bene questo spot che abbiamo voluto impostare in questo modo, non è soltanto un progetto, ma il ministro lo ripete spesso, è un patto, soldi in cambio di riforme, per realizzare queste riforme dobbiamo fare bene, fare presto e soprattutto fare squadra e quindi per questo ci siamo messi a disposizione delle amministrazioni con grande umiltà, però anche con una grande passione di servizio. Il modo con cui lavoreremo è basato su un lavoro tecnico che il Formez ha svolto in questi mesi, in primo luogo ha elaborato delle guide sul PNRR di facile consultazione a disposizione di tutti, poi ha elaborato un repertorio di domande e risposte, ne abbiamo circa 600 adesso nel patrimonio genetico del portale, che sono già nel CRM quindi, e sono praticamente già fruibili. Però in questo, poi abbiamo anche cominciato, ci siamo esercitati su alcune emergenze informative, quali erano i nuovi concorsi digitali, rientro in servizio dopo la fase dello smart working totale. Oggi abbiamo due modi, questo è un sito interrogabile, noi impareremo facendo, ma già adesso si può andare sulla barra del motore di ricerca, ricevere una risposta, se si è soddisfatti chiudere il ticket, altrimenti aprire un ticket che verrà poi gestito e processato dai tecnici del Formez. Altra possibilità, abbiamo lanciato un piccolo robot, Linea Mica, che utilizzando le nuove possibilità molto ampie dell'intelligenza artificiale, dà una risposta, anche in questo caso le possibilità diventano due, se non vi è una soddisfazione dalla risposta, perché si tratta di un robot che sta imparando, imparerà dall'esperienza, si potrà o aprire un ticket o entrare in contatto con un operatore in simultanea che cercherà di dare una risposta. L'obiettivo di Linea Mica 21 è lo stesso della Linea Mica che operò dal 10 al 15, cioè non lasciare nessuno solo, nessun comune verrà abbandonato per strada, cercheremo di raggiungere un risultato insieme ad un back office che ci verrà garantito dalla funzione pubblica per le risposte di secondo livello. Il nostro obiettivo di medio periodo è trasformare questa intelligenza artificiale in qualcosa di ancora più evoluto. Questo chatbot che imparerà dall'esperienza, creerà un repertorio di domande, una piccola giurisprudenza della gestione del PNRR e potrà diventare quella che abbiamo chiamato per sintesi l'Alexa dell'APA, quindi uno strumento che con un risponditore vocale, che non è un'implementazione tecnologica particolarmente complessa, potrà essere fruito da qualsiasi device in qualsiasi momento, perché anche la semplicità della risposta al pubblico è il nostro obiettivo. Partiamo, ce la mettiamo tutta, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, ma abbiamo già un lavoro di questi mesi che ci consente di essere fiduciosi. Grazie. Grazie. Grazie Sergio Talamo.